20 giugno 2023 la data importante perché quella del grande ritorno Francesco Macri si riappropria dello scrando più alto di estra dopo le note vicissitudini che lo avevano estragnato per forza dal gigante dell'energia. Un ritorno che assume un rilievo politico notevole visto che per quella decisione di Anac legata alla sua inconferibilità e di riflesso per la vicenda giudiziaria che lo aveva visto rispondere di accuse molto pesanti Macri era rimasto fuori dai giochi al punto che anche il seggio per il Parlamento prese un'altra direzione. Macri si è rifatto con gli interessi visto che ha vinto la sua battaglia giudiziaria con la soluzione dalle accuse sulla vicenda Coingas. Non è un caso che sia stato chiamato a fare parte di una partecipata statale di grande peso come Leonardo e che torna in estra dalla porta principale. Nella seduta che verrà diretta domani dal retino Giovanni Grazzini a fare il suo nome sarà il nuovo rappresentante di Coingas Maria Paola Petruccioli. Quale sarà il compito di Macri? La presenza nel nuovo CDA di Alia, la società fiorentina che rappresenta l'embrione della grande multi utility regionale che sta per nascere significativa. Intanto ci sarà da approvare un bilancio che ha fatto segnare maggiori ricavi ma anche un margine operativo lordo che ha accusato un meno 7%. Resta forte, l'asse tra Rezzo e Prato da verificare quello con Siena che con l'uscita di piazzi perde un punto fondamentale all'interno della società.